Ciao a tutti! Oggi la ricetta sarà molto particolare. Sono le uova sott'aceto. Vi do gli ingredienti. Io utilizzo 6 uova bio, rigorosamente, freschissime. Poi ci vorrà un bel bicchiere di aceto, di vino, un tre spicchi d'aglio di cui due li lasceremo interi e uno taglieremo a fettine, a lamelle. Se vi piace del coriandolo, se no potete usare un pochino di prezzemolo fresco. Se vi piace del peperoncino, io lo utilizzerò secco. Ci vorrà poi quasi un mezzo litro abbondante di aceto, un bel vasetto che sterilizzeremo nel forno per una mezz'oretta a 110 gradi. E poi le nostre spezie. Se lo avete, due foglie di kaffir. So che è una cosa un po' strana. Se non l'avete, andrà bene un cucchiaino di succo di limone. Poi utilizzo, come dicevo prima, due peperoncini. Uso dei semi di senape scura. Non sono facilissimi da trovare, ma se andate in qualche negozetto etnico, magari che a cose orientali indiane, lo trovate. Poi uso dei semi di cumino, dei semi di coriandolo, del pepe nero e della nigella o sesamo nero. A questo punto dobbiamo bollire le uova a lungo, un 13-15 minuti. E nel frattempo metteremo a sterilizzare in forno la nostra, mi viene già che è inglese, il nostro vasotto. E poi, come al solito, c'è il nostro ingrediente segreto. Ma oggi sarà duro indovinarlo, vedremo. Facciamo bollire l'acqua in cui avremo messo anche un bicchiere del nostro aceto. Una volta che il nostro vasetto sarà raffreddato, dovremo solo inserire le uova, le nostre spezie e l'aceto. E aggiungeremo anche l'ingrediente segreto. Poi riempiamo il vasetto con l'aceto. Ecco fatto, ora non rimane che chiuderle e metterle in frigo. Bisognerà aspettare almeno cinque giorni prima di poterle assaporare queste uova deliziose. Se vi è piaciuta la ricetta, datemi un like e condividetela. Ciao, alla prossima ricetta!